Dottor Cappuccetti, qual è il segreto per integrare in maniera naturale il fattore umano e l'innovazione tecnologica? A mio avviso la tecnologia deve supportare l'uomo, deve semplificare la vita di tutti quanti noi, la deve migliorare. Infatti a tal proposito noi grazie alla tecnologia possiamo fare delle cose che in passato non erano pensabili, tipo per esempio lo smart working. Abbiamo adottato lo smart working ormai da anni in Coca-Cola HBC Italia e questo è reso possibile dal fatto che tutti ci possiamo connettere in qualsiasi momento con la tecnologia che abbiamo a disposizione. In passato questa cosa non sarebbe potuta accadere e quindi grazie alla tecnologia la tecnologia migliora la vita di tutti quanti noi. Quindi invece di andare al lavoro ci possiamo connettere da casa e quella giornata lavorativa la facciamo direttamente da casa. È chiaro che va rivisto tutto il layout dell'ufficio perché si lavora ormai in maniera diversa, non ci sono più gli uffici di una volta chiusi ma ci sono uffici dove tutte le persone sono in open space, dove la comunicazione e l'informazione passa rapidamente. Siamo tutti in open space significa che siamo veramente tutti in open space, anche il nostro amministratore delegato è in open space.